Noi abbiamo sviluppato sistemi complessi che aiutano a prendere decisioni sul suolo e sul paesaggio per garantire una gestione sostenibile. Noi abbiamo lavorato con molte professionalità diverse, dagli agricoltori a esperti di ambiente, a esperti di pianificazione e con tantissime autorità pubbliche. Questo lo può fare un grande progetto europeo, non lo può fare una società privata, ma l'altro aspetto più sociale è ingaggiare gli utenti in questa sfida in cui loro possono usare liberamente questi strumenti tramite il web per cercare di gestire in maniera più sostenibile i loro territori. Ci troviamo nel Sannio, in questa zona si producono diverse tipologie di vini, il progetto Land Support ci dà degli strumenti utili per gestire queste grandi diversità e differenze che sono presenti nella valle. Grazie a tutti!